Con Luca Borsetti, presidente del Pino Dragons Firenze, si riparte prima di tutto dalla sponsorizzazione Enic, dal ritorno di Brandini, ci sono tante novità sia sul fronte societario che sul fronte tecnico. Sì, indubbiamente. Enic continua a essere un punto di riferimento assoluto per quel che ci riguarda e ringrazio ancora Stefano Gabrielli perché veramente ha creduto in questo progetto. Il ritorno di Brandini fa piacere in assoluto, fa piacere personalmente, fa piacere come azienda. La compagine si è allargata, si allarga anche da un punto di vista di sponsor di maglia Headline di Leonardo Bartoletti. E per concludere, il discorso della compagine sia dirigenziale che tecnica è comunque aumentata. A livello tecnico credo si sia fatto, speriamo almeno, di aver fatto i passi giusti. Senti Luca, è una squadra interessante, ha detto giustamente che ha perso dei leader esperti, ma ha comunque trovato gli innesti giusti per continuare a far crescere però i giocatori fiorentini, perché questo è il vostro grande obiettivo, no? Hai detto esattamente quello che noi vogliamo fare, prendere quattro giocatori molto esperti, veterani, che avrebbero magari monopolizzato il gioco sarebbe stato un errore da parte nostra. I nostri giocatori esperti l'anno prossimo devono essere i Marotta, i Passoni, i Filippi e tutti gli altri. Poi naturalmente Diego Terenzi è un giocatore che è un grandissimo prospetto, Galmarini è un altro giocatore che in Serie B ci sta veramente benissimo, Luca Marmugi è un punto di riferimento, è uno dei veterani che abbiamo deciso di prendere, insieme a Michele Maggini un vero allenatore in campo. Senti, nella conferenza stampa della Fiorentina Basket, comunque Piacenti vi ha fatto i complimenti per la promozione l'anno scorso e anche qua si è riparlato dell'aspetto del cercare un punto di contatto, come sono i rapporti fra le società e se è vero comunque che va avanti questo processo per cercare di fare un soggetto unico il prossimo anno? Io intanto ringrazio Piacenti dei complimenti e avrò modo poi di farlo direttamente. I rapporti con Antonio Fagotti e con la Fiorentina sono corretti e cordiali anche. Parliamo perché siamo innamorati dello stesso sport, parliamo perché ci troveremo a fare un derby, cosa assolutamente inusitata a Firenze e lo faremo cercando di creare due feste dello sport nelle due giornate di derby. Non ci dovranno essere screzzi, ci dovrà essere una voglia di superarsi sul campo, ma non voglia di stare insieme nello sport fuori dal campo. Per quel che riguarda il futuro, se mi permettete forse è bene pensare a quest'anno, a farlo molto bene. Poi chiaramente il dialogo è sempre aperto, se ci potranno essere sviluppi certamente ci saranno.